Per noi è molto importante ribadire l'impegno della Regione nel suo complesso, in questa edizione del Ron Contest sono diverse anime della Regione Toscana che si sono infatti messe insieme. E' importante che la Regione rinnovi il suo impegno nei confronti dei giovani e di tutte quelle manifestazioni linguisticamente diverse, artisticamente diverse e culturali dei giovani che rappresentano una vivacità direi abbastanza originale della nostra Regione. Uno degli esempi è il concorso delle 100 band che si è tenuto, da cui facciamo degli intrecci spesso molto opportuni, questo nel caso del Ron Contest è uno molto importante e abbiamo chiesto al Fondo Sociale Europeo di occuparsi di questo tema perché ci sembrava molto consono. Iniziativa virtuosa della Regione Toscana che impegna le politiche, le risorse messe a disposizione dal Fondo Sociale Europeo in una direzione abbastanza nuova che non è quella classica della formazione per le professioni, anche quella naturalmente il Fondo Sociale Europeo della Toscana sostiene. Questo è un filone sulla comunicazione che viene indirizzato verso far emergere quelle che sono le potenzialità dei giovani in Toscana in settori che sono creativi e di interesse dei giovani stessi.